Questo medico se vuole fare politica fa come sottoscritto, si candida, prende i voti dei Veneti e poi fa l'assessore regionale, comunale, provinciale, fa il ministro. Qui bisogna imparare una cosa, il virologo deve fare il virologo, il medico faccia il medico, faccia il medico. Io sono stato eletto dai Veneti per fare il consigliere regionale e poi l'assessore. Non interferisco nel lavoro dei medici e lo ricordo sempre, i latini dicevano sutorn e ultra crepida, calzolaio non oltre la scarpa. Qua se ognuno facesse il proprio lavoro sarebbe un paese migliore per tutti.